Acerbo, voi chiedete all'ASL di ripensare una decisione che sembra a questo punto quasi certa, quella della chiusura del centro psichiatrico diurno di Viale Vespucci. Sì, almeno è questo quanto l'ASL ha comunicato agli operatori e ai pazienti del centro diurno integrato qui a Viale Vespucci. Si tratta di una decisione che ovviamente suscita tra i pazienti reazioni non positive, sono soggetti fragili che stanno facendo un percorso di riabilitazione psichiatrica, se sono qui è perché degli psichiatri hanno deciso che seguissero questo percorso. Ora, l'ASL ha dichiarato a un quotidiano pescarese che per quanto riguarda i dipendenti non ci sarà problema, saranno ricollocati, quindi ci sono le risorse per pagare i dipendenti e quindi io dico, perché chiudere una struttura su Pescara città dove ne mancano, in caso a me bisognerebbe aprirne altre? E soprattutto perché mandare queste persone magari in strutture private dove costituirebbero altri costi, magari lontano da Pescara, magari in strutture più reclusive, mentre chiunque sa che questi percorsi riabilitativi inseriti nel contesto sociale funzionano e danno risultati. È vero che questo centro è stato aperto dal dottor Sabatino Trotta, ma non è che perché è stato tragicamente tra l'altro coinvolto in una vicenda giudiziaria dobbiamo cancellare tutto il lavoro fatto da un medico che fino al giorno prima era stimato da tutte e tutti. E quindi io credo che bisogna dare priorità al diritto alla salute e alla continuazione del proprio percorso riabilitativo dei pazienti e salvaguardare questa struttura garantendone la continuità assistenziale. Dopodiché se l'Asla ha altri piani, beh che apre altre strutture, ce ne vorrebbero dieci a Pescara e nell'area metropolitana, invece di mandare pazienti fuori magari accrescendo gli stessi costi. Facciamola un po' di riforma basaglia sul nostro territorio.